Ciao a tutti, oggi un nuovo video, finalmente sono qui per farvi il video sul progetto smaltimento prodotti l'ultimo video risale a inizio marzo, siamo praticamente a fine maggio quindi sono passati pieni due mesi e in due mesi sono cambiate veramente tantissime cose allora, io il progetto l'ho fatto quest'anno come anche l'anno scorso, l'anno precedente e continuerò a farlo anche nel 2023 quindi se volete rimanere con me ne sarei felice, lasciatemi un like per sostenere questo tipo di video e praticamente in cosa consiste il progetto? nello scegliere, io in questo caso ho scelto in base all'anno, quindi 2022, 22 prodotti da portare a termine entro fine anno ovviamente ho scelto prodotti che comunque so di utilizzare tutti i giorni e ovviamente non sono solo questi quelli che sto terminando ma utilizzo anche altri prodotti però questi sono diciamo quelli magari un po' più vecchiotti che devono essere smaltiti e quant'altro per evitare di buttarli allora, fino appunto al video di marzo non avevo chiaramente finito niente perché in soli tre mesi, a meno che non metti un prodotto già bucato è davvero tosta finire un prodotto in così poco tempo però, ovviamente, adesso che sono praticamente passati cinque mesi pieni da inizio anno mi ritrovo ad aver finito un bel gruccioletto di prodotti allora, parto dal primo il primo che ho terminato è un mascara chiaramente non vi posso far vedere com'era a gennaio perché il mascara è impossibile ma è praticamente secchissimo questa era un mascara della Claren sinceramente senza infame e senza lode perché da un lato vi dico un buon mascara ma non eccellente siccome costa 22-23 euro addirittura in alcuni posti quasi 30 su alcuni siti sinceramente teneteveli in saccoccia però comunque sia, sono contenta di averlo terminato altro prodotto che ho terminato è praticamente il fondotinta della Smashbox come vedete ce n'è un po' laterale perché l'ho tenuto così e sono andata a scavarlo anche con la stecchetta ma ormai praticamente la stecchetta si sta per spaccare quindi sinceramente per questa poca quantità ovviamente lo considero finito sono davvero soddisfatta di averlo terminato questo stava più o meno a metà inizio anno quindi comunque era abbastanza scontato il fatto che io riuscissi a terminarlo ma nonostante questo sono sicuramente felice è un fondotinta davvero buonissimo ha una performance davvero elevata quindi onestamente è vero che costa sulle 30 euro ma io mi sento di consigliarvelo questo è il photo finish ed è un fondotinta che nonostante comunque copre fa la pelle levigata perfetta veramente secondo me anche per i matrimoni per le cerimonie è un ottimo prodotto perché rimane su tutto il giorno e in foto ha una resa pazzesca e comunque il prezzo è abbastanza abbordabile perché poi tipo Douglas molto spesso fa sconti anche il sito stesso di Smashbox magari vi dà un omaggio quindi comunque devo essere onesta li rispenderei volentieri questi soldi però avendo tantissimi fondotinta questo ce l'avevo da un po' di anni aperto non dovrei neanche dirlo quindi onde evitare che andava male ho preferito terminarlo e sono contenta di questo altro prodotto che sono andata a terminare incredibilmente è un illuminante devo essere onesta mi è piaciuto veramente tantissimo è della mesauda si chiamava Aurora come vedete non c'è più niente io appunto marzo ho fatto un bel buco e adesso l'ho totalmente finito devo essere onesta 5 grammi spalmati su una cialda molto grande ovviamente è più facile sia bucarla sia terminarla perché poi non so se vi capita anche a voi ma una volta che si bucano i prodotti o sarà che uno ha incentivato ad utilizzarli e quindi li finisce più in fretta o appunto comunque spolverano un po' di più avendo il buco quindi comunque non so a voi ma io una volta che riesco a bucarli li termino in fretta comunque mi è piaciuto tantissimo dura tutto il giorno dà un effetto davvero luminoso sembra che vi vedete solo voi se bagnate il pennello veramente è qualcosa di unico davvero ottimo questo illuminante di mesauda se diciamo avessi pochi illuminanti l'avrei ricomprato domani ma avendo un cassetto pieno di illuminanti ovviamente no però un buon prodotto io gli darei un 8 barra 9 anche per la performance che dura veramente tantissimo altro prodotto che avevo detto che avrei finito nel mese di aprile o maggio ed effettivamente è stato così è il bronzer limited edition di MAC questo aveva un buco pazzesco praticamente erano rimasti solo i bordi eccolo qua e praticamente infatti c'è un piccolo bordino che io considero finito anche perché insomma e anche questo si è andato purtroppo sgretolando utilizzandolo una volta bucato si è proprio alcuni pezzi si staccavano dalla parete questo è pazzesco mi è piaciuto tantissimo io adoro le polveri di MAC durano tutto il giorno c'è ottima veramente performance li pagate ma valgono tutti i soldi spesi a parte che si fondono completamente sul viso ma poi durano tantissimo quindi sono soddisfatta non ve ne parlo ulteriormente perché comunque limited edition vale lo stesso per il back to MAC poi altro prodotto che ho terminato è sempre di MAC ed è praticamente un rossetto questo è Pink Blade ho deciso di metterlo qui perché questo praticamente altre due utilizzate e lo finisco io i rossetti sono onesta non li scavo non li scavo perché per finire un rossetto fino alla fine anche scavandolo dentro c'è una grande quantità quindi è vero io vado comunque a buttare un po' di prodotto però onestamente se io dovessi concentrarmi a terminare anche dentro questo magari faccio scadere altri tre rossetti per dirvi quindi io preferisco comunque finirlo dove è stato studiato apposta che il rossetto debba essere finito e non internamente piuttosto che magari finire per bene questo e farne scadere altri tre barra quattro ecco non so se mi sono spiegata anche perché poi questo dovrebbe essere usato solo con un pennellino dovrebbe essere usato solo dentro casa dovete stare attenti e sigillare il posto dove lo mettete che non deve prendere microbi quindi comunque è abbastanza faticoso io generalmente i rossetti quando lo metto lo porto anche in borsetta per ripassarlo quindi questo non è fattibile se ovviamente lo metto a casa e poi dopo fuori devo portarmi un altro rossetto a questo punto me ne applico un altro e sto a posto anche questo vale per il back to mac che cos'è il back to mac è portato indietro sei confezioni e vi danno un rossetto omaggio le confezioni si intende il prodotto proprio vero e proprio non la scatolina esterna di quando lo comprate e ovviamente potete portarli anche non finiti però ovviamente io li porto finiti poi questo non lo considero finito ma purtroppo deve salutarci ed è la matita di mac mi ha fatto lacrimare gli occhi e praticamente gli è successo questo ebbene si è seccata e di conseguenza si è levata tutta la mina questo adesso mi fa lacrimare perché ovviamente un prodotto così prende solo polvere germi e è inutile utilizzarlo era la black eyes di mac una matita questa temperabile non vale per il back to mac comunque vi dico che onestamente non mi è piaciuta col prezzo che costa a parte che mi rode adesso che la devo buttare così ma al di là di quello ci sono matite in commercio anche Kiko stessa che durano molto di più si applicano più facilmente sono più scriventi quindi non ve la consiglio questo è un prodotto di mac che non mi è piaciuto e non vi consiglio quindi ho finito in totale sei prodotti diciamo cinque uno lo butto comunque sei prodotti su ventidue fino a maggio chissà se per dicembre riuscirò a terminare i restanti che sono ben quattordici ci aggiorneremo comunque un prodotto che sicuramente penso che finirò a breve è il fondotinta di Marc Jacobs questo qui che è praticamente un brand che io acquistavo su Sephora da quello che ho capito lasceranno solo i profumi forse tolgono anche quelli comunque il makeup non si compra più non so dove reperirlo se si reperisce ancora non lo so sinceramente comunque sia è un buonissimo fondotinta alta performance anche questo molto sfumabile modulabile effetto seconda pelle rende il viso luminoso tipo una bambolina di porcellana è quello che indosso anche in questo video come vedete non fa strato è molto molto bello non evidenzia pieghette e secondo me lo finirò perché praticamente questo quando fate più vedete più pusciate sembra tipo che non esce non so come farvi capire no? vedete che ne esce poco ecco questo di solito si sparava dunque volevo farvi capire che generalmente ecco quando un fondotinta è pieno spara tantissimo prodotto invece questo oltre che è leggero sembra secondo me essere quasi finito poi tra l'altro fa questi packaging Marc Jacobs tipo lussuosissimi di vetro opaco molto bello cioè esteticamente ottimo e performante a livelli estremi quindi questo secondo me a giugno sarà finito gli diciamo proprio con le mani con le mani ciao ciao e sempre continuando sul tema cosa finirò secondo me tra il giugno e luglio i prossimi mesi parliamo del correttore di Bobby Brown anche questo abbastanza costoso come prodotto ma davvero una performance ineguagliabile è diventato uno dei miei correttori ovviamente lussuosi preferito perché costa tipo 30 euro ma corregge un sacco serve veramente pochissimo prodotto è bello corposo sicuramente dovete stare attenti nell'applicazione per non farlo entrare nelle pieghe però dà veramente un effetto di occhiaia coperta al 100% e se lo stendete bene lo settate bene dà proprio questo contorno occhi super levigato mi piace un sacco veramente fantastico purtroppo si stanno intravedendo non so se mette a fuoco vedete i tagli quando si vedono questi tagli vuol dire che stiamo praticamente spazzolando i bordi perché ormai è quasi finito ma finché c'è finché dura fa verdura no e altri due prodotti che sicuramente anche questi saluteremo sono due matite labbra voi sapete che io ho la passione per le matite labbra in particolare nel progetto io ho messo una di astra sempre tutte e due nude perché onestamente avrei trovato insensato mettere le matite tipo rosse fucsia perché tutti i giorni metto un rossetto nude un po' più scuretto comunque raramente metto fucsia rosso cioè non metto più per uscire no quindi per quando esco e tutto quanto sinceramente di matite rosse fucsia sì ce ne ho tante però non come quelle nude e quindi volevo terminarle allora ho messo nel progetto la 33 che è questo nude che veramente l'ho consumata un sacco cioè questa è così quando l'ho praticamente messa nel progetto era così quindi diciamo che sicuramente un terzo l'ho finita mentre di questa secondo me più di metà questa è di Fatima Diurni la trovate su Cosmify e queste matite insieme ai rossetti per me sono aiuto sono veramente un'uscita pazzesca ve li stra consiglio questa qui è quella di Fatima sono dei nude perfetti non hanno una saturazione importante non sono super caldi non sono super freddi sono veramente molto ben studiati le colorazioni dei rossetti e delle matite un prodotto che onestamente non ho mai utilizzato come in questo mese è il correttore Boeing della Benefit questo qua siccome ho dormito poco grazie a chi non lo so guarda non faccio nomi forse aurorina ciao amori mio bacino comunque praticamente niente non ha dormito molto sta mettendo i denti non lo so cosa sta facendo tendo sostanzialmente a giustificarla così almeno non divento folle e niente praticamente ho scavato tantissimo questo correttore questo è proprio perfetto per le occhiaie è un colore pesca che voi lo mettete proprio solo qui dove avete il difetto e va totalmente a camuffare l'occhiaia chiaramente dopo andate a mettere un correttore illuminante del vostro colore di pelle e tutto sarà perfetto il contorno occhi non va nelle pieghe si sfuma bene abbastanza oleoso corposo ottimo prodotto e quindi l'ho utilizzato ho fatto anche un super buco a questo prodotto che è un blush sempre purtroppo limited edition di MAC ma io voglio finire tutti i prodotti di MAC perché ne ho tantissimi questo era bucato al centro guardate adesso quanto cavolo si è allargato il buco allora come vi dicevo già nell'altro video questo è un prodotto che ha 5 grammi spalmati sempre su una cialda grande cioè considerate che questo anche ha 5 grammi ed è alla metà infatti di cialda quindi comunque su questo si vede molto di più il fatto di usarlo però comunque sono contenta è un blush meraviglioso con tutto questo effetto tipo marble sulle guance è un colore malva biscotto davvero stupendo purtroppo è una limited edition tra l'altro anche un po' di vedete un po' riflette la luce perché all'interno ha tutti i micropagliuzzi oro è veramente qualcosa di bellissimo secondo me per pelli mediterranee che è una bella abbronzatura questo non doveva farselo scappare ma è inutile che mi dilungo perché non c'è più voglio solo farvi vedere quanto sono andata avanti nel consumarlo così come sono andata avanti con il candlelight glow chiaramente l'ho utilizzato molto meno perché ho dovuto finire questo qui di mesaudano però comunque devo essere onesta il candlelight glow l'ho praticamente abbucato molto molto di più considerate che prima erano solo i due cerchi adesso stiamo andando al terzo e poi è finito il candlelight glow anche di Too Faced non viene più prodotto io voglio terminarlo perché è vecchio questo ha 10 grammi quindi sicuramente non lo finirò mai per giugno o luglio ma credo che ne riparleremo a settembre barra ottobre non lo so vedremo perché se poi si sgretola quando comincio a staccarlo dai bordi col pennello insomma ovviamente si consumerà prima altro prodotto che ho fatto davvero dei passi da gigante è di sephora ed è praticamente la cipria cipria che era intera l'ho bucata e sono contenta perché sinceramente la volevo proprio terminare l'unica cosa che ho notato che un po' mi scoccia è che quando siccome la utilizzo molto spesso per tamponare il correttore con la spugnetta bagnata si crea una patina sopra e devo sempre starla a grattare infatti non so se lo vedete ma è tutta grattata questo fa sì che chiaramente la consumo prima infatti adesso ho pensato che siccome vabbè questa l'ho pagata ai saldi 5 euro ma io ho anche cipre compatte che costano 30-40 euro quindi che cosa ho deciso di fare su Amazon mi sono comprata 2-3 ciprie della Rimmel che utilizzo con lo stesso scopo quindi con la spugnetta che bagno e poi tampono così anche se poi devo grattarla quelle le ho pagate 3 euro mentre per tutto il resto del viso uso ciprie che appunto ho pagato un bel po' di più e che danno una performance più alta sempre un altro prodotto che ho fatto dei passi da giganti è la palette di Clio questa l'ho riscoperta quest'anno in questo progetto infatti è bello fare questo progetto anche per riscoprire i prodotti che si hanno nei cassetti abbandonati da tempo e questo era uno di quelli ma è un sacco buona questa palette io la sto amando a parte che come vedete l'ho utilizzata tantissimo questo era l'unico prodotto l'unico ombretto che avevo bucato a marzo quando l'ho messa quest'anno era tutta 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 intera e in questi mesi sono andata a bucare questo oro e questo che credo che nei prossimi mesi finirò e mi auguro di bucare questi due perché sono ben ben scavati questa palette onestamente questo qui non lo utilizzo per niente questo più scuro lo utilizzo proprio raramente quindi insieme a questo li utilizzo poco quindi io già che finisco questa prima riga di 5 ombretti in più 3 sotto la considererò finita e la butterò perché comunque finire appunto 8 ombretti su 10 è un ottimo ottimo percorso magari tutte le palette facessi così quindi io questa me la porto avanti contenta di utilizzarla e ci vedremo nei prossimi mesi sperando di bucare sicuramente due ombretti altro rossetto che ho utilizzato tantissimo e che si vede tantissimo la differenza è Craving di MAC è anche quello che indosso in questo video ed è praticamente un rossetto saten di MAC molto carino lucidino adesso che si può andare in giro il pomeriggio anche senza mascherine io lo metto molto più volentieri perché questo essendo lucido con la mascherina fa dei problemi osceni quelli che ci ritroviamo il rossetto spampinato ovunque quindi questo ecco diciamo lo sto riutilizzando con molta molta gioia e sono sicura che lo finirò è proprio un rossetto che è nella mia comfort zone che vai sai che stai bene con quel rossetto lo metti con gioia e non ti pesa ultimo prodotto di quelli che ho utilizzato tantissimo è il bronze di MAC questo è praticamente uno sculpt infatti serve proprio per scolpire il viso tende leggermente al grigetto lo indosso anche in questo video e va proprio a scavare mi piace tantissimo lo sto utilizzando da poco perché prima ho dovuto finire questo bronzer anche se in realtà sono due prodotti diversi questo è opaco e va proprio a scolpire il viso questo essendo più un bronzer si va a scolpire il viso se lo mettete qui ma tende più a fare da blush però onestamente io lo utilizzavo anche come per fare la zona calda in fronte insomma per dare un po' l'effetto affronzato cosa che adesso magari faccio un po' con questo e praticamente questo qui è disponibile anche in linea permanente solo che non lo trovate con il packaging che era una limited edition in collaborazione con Disney di Maleficent è un ottimo prodotto raga questo dura 18 ore anche col caldo se fate bagni di sudore ve lo ritrovate comunque addosso io ci sono andata in palestra e su di me dura quindi io non posso che dirvi prendetelo se vi serve un prodotto per scolpire il viso ultima parte di questo video è sempre dedicata ai prodotti che ho utilizzato ma di meno parto da quello che ho utilizzato di più fra quelli di meno che gioco di parole ed è questo blushino è il blushino di MAC il pink swan eccolo qua sto praticamente facendo non so se così forse si vede un pochino c'ha la fossa ovviamente non l'ho utilizzato tantissimo perché voglio terminare prima questo però comunque ogni tanto quando mi truccavo di rosa lo mettevo su e mi piace tantissimo anche questo ha un'ottima durata non mi dilungo sulla qualità di MAC raga questo o vi piace il colore o non fa per voi è un rosa freddo molto bello molto difficile da trovare direi quasi un rosa barbie che prima andava molto di moda adesso si è un po' perso ma secondo me per chi indossa molto i colori pastello è un ottimo blush da abbinare poi è completamente opaco a differenza dell'altro quindi anche per chi magari ha delle problematiche sulle guance questo non va a enfatizzarle come vedete ho 3000 prodotti di MAC nel progetto perché dovete sapere che io prima tendevo sostanzialmente a mettere nel progetto o in generale terminare i prodotti che compravo a 2-3 euro perché mi dicevo quelli più che ho pagato di più li devo usare per le serate sapete quando siete piccoline e vivete questo periodo in cui comunque i prodotti lussuosi li dovete utilizzare solo in determinate occasioni il problema è che poi negli anni di prodotti lussuosi ne ho accumulati davvero tanti quindi non avevo più un solo fondotinta un solo blush ma magari avevo 10 blush lussuosi e 10 economici e quindi mi sono detta perché continuare ad utilizzare e finire magari i blush o i rossetti quello che vi pare economici e poi tenermi magari che scadono quelli lussuosi ci ha più senso in realtà ci avrebbe senso non acquistare però nel mio caso che mi piace acquistare ha più senso finire e sfruttare i prodotti che più amo che molto spesso sono anche economici però in questo caso MAC è il mio brand preferito uso i prodotti di MAC che mi sono fatta così per mettere soldi da parte e comprarli anziché farli scadere a questo punto li utilizzo e infatti c'è un altro prodotto di MAC questo è un rossetto ed è un rossetto bellissimo non veniva su ed è all fired up è proprio un rosso diciamo fragola bellissimo per l'estate questo è opaco confortevolissimo è uno dei miei rossi preferiti che io utilizzo sempre e secondo me ha una punta di amarena molto molto faigo non l'ho utilizzato tantissimo perché mi sono truccata soprattutto per terminare vi dico la verità e per continuare ad utilizzare craving di rosa però questo l'ho utilizzato ma poco altro prodotto che lo metto in questa categoria perché lo utilizzo onestamente una barra massimo due volte a settimana che sono le volte in cui magari esco dalla mattina alla sera quindi il weekend sabato e domenica che vado in giro no? perché comunque quando vado al lavoro magari poi torno a casa posso ritoccarmi il make up invece quando sto fuori il weekend dalla mattina alla sera no non lo ritocco e quindi del primer non ne ho tanto bisogno questo è il Radiant Boost Face Primer di Kiko come vedete si è usato ma non è chissà quanto è un buon primer onestamente ha un color pesca che va comunque a minimizzare le discolomie del viso ed è un primer che diciamo fa durare di più i prodotti non è tra i primer migliori il viso che io abbia mai provato perché per me il migliore rimane Benefit però comunque è un buon primer soprattutto se pensiamo al costo che non è neanche di 10 euro un altro prodotto che ho utilizzato poco e sono un po' spaventata perché andrò a farmi il tatuaggio sopracciglia e ho paura di non utilizzarlo proprio mai più è un gel per sopracciglia questo era carino l'ho messo in questo progetto perché a gennaio avevo la fissa di mettere solo i gel dare un po' l'effetto così naturale e uscire di casa poi mi ha ripresa la fissa delle matite l'anno scorso ero fissa gel sopracciglia quest'anno matite e quindi questo l'ho proprio dimenticato chissà vedremo il suo percorso credo che me lo porterò fino a dicembre questo ma vabbè poi ultimo prodotto la palette la seconda palette che ho nel progetto questa ovviamente per utilizzare quell'altra l'ho messa un po' da parte questa parliamo della shadow palette rose gold edition di huda beauty ottima palette ma in realtà io preferisco quelle piccole quelle piccole perché sono più compatte più facili da utilizzare da trasportare però ovviamente nulla toglie che questa è un'ottima ottima palette però la uso meno cioè onestamente l'ho messa infatti in questo progetto proprio perché erano anni che io la tenevo nel cassetto e la usavo due o tre volte l'anno e invece avendola nel progetto avendola davanti anche che io la utilizzo solo due volte al mese in un anno comunque sono 24 volte certo non è che li finisco con 24 volte però almeno anche in coscienza so che i soldi non li ho buttati ecco nel secchio però sono sicura sono sicura che almeno la prima riga la utilizzerò e la finirò quest'anno cioè mi voglio proprio non la porterò a termine tutta secondo me quest'anno però con un po' di sforzo sicuramente qualche ombretto mi darà soddisfazione e si terminerà basta ragazzi vi ho rincoglionito abbastanza è stato bello parlare e chiacchierare con voi era da tempo che non facevo un video in relax sono solo a casa e non capita quasi mai quindi sono molto contenta è tipo per me tornare a vecchi tempi non lo so e basta io vi mando un caro abbraccio vi ringrazio se siete arrivati a questa parte del video fatemelo sapere se siete arrivati alla fine ma non credo perché chi è che mi sente così tanto tempo non lo so le coraggiose grazie coraggiose un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao